1, 2, 3, come on! Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e bentornati sul mio canale! Oggi siamo qui di nuovo su Minecraft con Creep Mater, diciamo saluta, saluta i fan, saluta i fan, grande Creep Mater, ciao a tutti! Oggi siamo qui per fare il tour di questo mondo che si chiama Città nel Land. Allora, qui c'è una fiaccola, qui c'è una torre a caso proprio, qui c'è un'altra fiaccola, questo è lo scheletro del, come si chiama, dell'Ender Drago. Poi qui c'è un templio, c'è un templio qua, tutto rotto, c'è tutto pieno di radici, e qua c'è scritto colui che ha provato ad uccidere il Drago per primo, e di qua c'è questo, che sono tutti questi, tutti questi scheletri sono quelli che hanno provato ad uccidere il Drago, e questi due qua sono gli occhi del Drago. E infine, questa è la tomba, volevo dirvi, e infine questo è un laser del mondo di Creep, e del mondo distrutto. Ah, e qui c'è un Enderman, c'è un Enderman con la bocca aperta che si è arrabbiato tantissimo, per fare una farm, eh? E vabbè. Ragazzi, spero che questo tour vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, e noi ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti, consigliateci a tutti, consigliateci cosa dobbiamo mettere in questo mondo. Ciao! Ciao! Ciao!